Ciao a tutte voi donne che entrerete a far parte del progetto Bella in forma per sempre di Marco Caggiati oggi sono qui a fare questo video perché voglio rendervi partecipe dell'entusiasmo che mi ha travolto da quando sono entrata a far parte della membership di Marco Caggiati e di questo suo progetto innanzitutto quello che mi ha entusiasmato di più è il fatto che non si tratta di un ti do gli esercizi e tu li fai così come spesso mi è capitato diciamo tutte quelle volte che io ho tentato di mettermi in forma e di vedermi allo specchio così come volevo vedermi ma si tratta di un di un essere seguito a 360 gradi a livello alimentare a livello fisico e soprattutto a livello mentale perché se non hai una vera e propria motivazione per poter finalmente diventare la versione migliore di te stessa è difficile che tu riesca a mantenere questo questo stile di vita sano che Marco ci vuole trasmettere a lungo tempo quindi questo è quello che mi ha entusiasmato di più e allo stesso tempo è anche il problema che sono riuscita a risolvere perché fino a questo momento tutte le volte in cui ho cercato di mettermi in forma non sapevo il motivo esatto per cui io lo volevo fare sapevo che volevo volevo rassodare che volevo dimagrire che volevo diventare come ho già detto la versione migliore di me stessa ma non sapevo esattamente quale quale motivo mi spingesse a dire questo e soprattutto che cosa mi spingeva dopo tot tempo che mi allenavo a non farlo più quindi quello che voglio dire è nel momento in cui entrerete a far parte di questo progetto membership avrete un programma personalizzato e nonostante magari non avrete possibilità di conoscere Marco dal vivo anche è un po come se fosse in casa vostra mentre vi allenate quindi io vi consiglio caldamente di entrare a far parte di questo progetto soprattutto se avete in mente di finalmente di vedervi e di sentirvi così come avete sempre voluto vedervi e come avete sempre voluto sentirvi non vedo non vedo l'ora di incontrarvi di incontrarvi all'interno di questo progetto membership e vi mando un abbraccio e a tutte voi che saranno belle in forma per sempre dopo essere entrate a far parte di questo progetto ciao ciao